Una buona giornata a tutti voi telespettatori di Fano TV, 7 e 31 minuti in diretta, 7 e 31 in diretta sul canale 17 di Fano TV. La rassegna stampa, occhio ai giornali. Il Santo del Giorno, vediamolo subito, oggi la chiesa ricorda Sant'Agnese, il sole è sorto alle 7.35 e tramonterà alle 17.04. Fa freddo questa mattina, continua a piovere, addirittura scenderà la neve qui nella dorsale appenninica. La temperatura attuale a Fano è di 6 gradi, l'umidità del 92%, la velocità del vento è di 6 km orari. Ieri sono caduti, ieri è caduto un millimetro e 6 di pioggia. Per quanto riguarda il tempo, guardate ancora la webcam, ci mostra una giornata che inizia con tante nuvole, ancora fa fatica ad uscire la luce, il chiarore del giorno. Allora, dicevo, queste le previsioni per oggi. Vedete la neve lungo la dorsale appenninica. Il limite delle nevicate oggi sarà intorno ai 1200 metri. Per quanto riguarda le precipitazioni, saranno invece la pioggia, debole, sparsa, più probabile e maggiormente diffusa sui settori centro-settentrionali. Le temperature sono in lieve aumento, eventi di brezza tesa. Per quanto riguarda la giornata di domani, migliora sulla costa, resta invece ancora perturbato nell'entroterra con temperature stazionari e in lieve aumento. Ma vedete venerdì, poi, 23 gennaio, ancora precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio più insistenti sui settori meridionali delle Marche e sui settori interni. Il limite delle nevicate inizialmente attorno ai millimetri scenderà fino a 800 metri nel corso del pomeriggio per effetto della diminuzione delle temperature. Eventi nord-orientali, il mare sarà molto mosso o agitato. Ancora tempo instabile per il fine settimana e l'inizio della prossima con un conseguente, con un segnale di miglioramento solo verso la metà della prossima settimana. Quindi oggi, mercoledì, possiamo dire avremo una settimana ancora di maltempo, poi è probabile il miglioramento. Allora, cominciamo a leggere i giornali. Ieri è stata presentata ad Ancona l'edizione 2015 del Carnevale di Fano, con il presidente Luciano Cicchini in testa. Un carnevale per tutti, per le strade di Fano sfileranno anche gli animali. Questa è una novità, novità di questa edizione 2015. Sfileranno anche gli animali. Presentate le novità di questa edizione. Dicevamo, in particolare, questo Carnevale degli Animali avverrà nella mattinata del primo febbraio. Quindi parliamo della mattina. Per quanti in questi anni hanno voluto far vivere gli eccessi carnascialeschi anche ai loro amici a quattro zampi. Poi il Carlino ricorda il contributo che la Regione dà stabilmente e che ha accordato al Carnevale con un capitolo all'interno della legge finanziaria. Carnevale dolce e da gustare nel segno dell'Expo. Tra le novità, una grande offerta di cibi e sapori. Oggi l'ultimo saluto al professor Mauro Angelini. Il mondo dello sport in lutto. Si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa della Santa Famiglia Fano. Fano due i funerali di Mauro Angelini. Il professore di educazione fisica è scomparso sabato mentre stava terminando una sessione di allenamento alla pista Zengarini. E poi ancora la politica. Nel Partito Democratico di Fano Toriani si tira indietro. Minardi in pole position. Toriani a un certo punto ha detto Non ho il profilo adatto per questa campagna elettorale. Mi tiro fuori e ha sorpreso un po' tutti quelli che erano presenti alla riunione. Francesco Toriani, uno degli aspiranti del PD Fano al Consiglio regionale, si sarebbe appunto tirato fuori, secondo il Carlino, durante la segreteria del partito dalla corsa per le regionali. L'ex Codma fa gola all'Istituto Agrario Cecchi. Bastano pochi lavori e sarà pronto. Il primo obiettivo è quello di avere la certificazione da parte della regione. Oggi l'autopsia invece sul corpo del settantenne investito a Carrara sulla Flaminia. Il figlio, il figlio dice, non stava attraversando. Stiamo parlando dell'incidente a cui è rimasto vittima Giuseppe Fossi, 78 anni, morto lunedì sera dopo un investimento stradale a pochi metri da casa. Mio padre stava tornando a casa, racconta il figlio Alessandro, camminando sul ciglio della strada, la nazionale Flaminia, e non stava attraversando come hanno riportato tutti i giornali. Tiene a precisare che il padre non ha commesso nessuna imprudenza. E Nicolò invece. Nicolò per lui sabato la partita, la partita del cuore. Stiamo parlando del sedicenne che è ancora stazionario, ricoverato in rianimazione al Torrette di Ancona. La sua squadra di calcio giocherà a Pesaro. Le proteste intanto dei residenti di Colombarone sul problema della sicurezza. In questa strada c'è troppa velocità. Qui accade un incidente grave praticamente una volta al mese, dicono i residenti. Poi i cani, cani che sporcano, scattano le multe. A Pesaro, lettera di un bambino al sindaco Matteo Ricci. E Ricci annuncia il giro di vite. 100 euro ai padroni. Ha ragione Alessandro, dice il sindaco, leggendo la lettera. Ci sono troppi maleducati. Adesso saremo inflessibili. Da Pesaro, Corriere Adriatico. Pesaro, Parcheggi, Conti non tornano. L'opposizione chiede una verifica sul bilancio. Quasi 200 mila euro spesi in consulenze esterne. Costi delle prestazioni di terzi crescentini non sono perizie tecniche. Quelle sono state pagate 71 mila euro. Da Urbino, Canavaccio, a febbraio partiranno i lavori sulla strada statale che è franata ormai da un'eternità. Il PD interroga il sindaco, ribadisce, la responsabilità di quel tratto di strada è dell'ANAS. È un tratto di strada che collega Urbino alla costa, alla superstrada e di conseguenza all'autostrada. La pagina di Fano, città a rischio per pedoni e ciclisti. L'associazione Forbici protesta per l'assenza di marciapiedi, di strisce e di piste ciclabili. Regioni, nel PD in corsa Minardi e Fulvi. Torriani rinuncia, la scelta partirà dai circoli ma anche gli alleati vogliono contare. Per la guida sì a Ceriscioli. Vertice operativo in comune, cura urbana e ambientale, così i profughi lavoreranno. Richiesta l'adesione volontaria e gratuita. Un defibrillatore salva la vita, infarto alla pista Zengarini. Il dottor Caverni conferma l'handicap dei soccorsi. Non c'era l'apparecchio. Entro l'anno si pensa di attrezzare tutti gli impianti comunali. Alle 15 invece il funerale a Fano II, nella chiesa di Fano II di Mauro Angelini. Ancora dal Corriere Adriatico ruba una borsa. È stata tradita però dall'iPhone. Un'applicazione segnala dove si trova il cellulare e i carabinieri rintracciano la ladra. Dal messaggero, la pagina di Pesaro, Ceriscioli, il nuovo sono io, dice. Regionali, il vice segretario PD va alle primarie e si propone come sindaco delle Marche. Attacco al governatore, si faccia da parte, consultazioni di coalizione senza Marche 20 e 20. A centro pagina la foto di un lottatore per la squadra di basket VL. L'allenatore ci chiede di giocare duro, come piace a me, parole di Peter Laurent, che i tifosi apprezzeranno. I vigili urbani protestano invece contro l'unione dei comuni. Nessun preavviso e rischi trasferimenti. Venerdì, assemblea sindacale. Ancora dal messaggero, tre grandi elettori per votare il nuovo capo dello Stato. Si tratta di Spacca, Bugaro e Mirko Ricci. Niente colpi di scena nella scelta dei tre delegati regionali. Per il governatore, in carica, anche i voti di nuovo centrodestra. Può essere un segnale a Marche 20 e 20 in chiave regionale. Allarme della CISL. Appalti pubblici, ribassi troppo alti e poche garanzie. Il sindacato chiede ai comuni di privilegiare le imprese locali. Mentre concordato al mercatone 1, tremano 27 dipendenti. Siva CIL, il colosso legato al mobile. Bontà della Will, dice grande preoccupazione. A febbraio incontro con la proprietà. Ancora dal messaggero, questa mattina i funerali di Sandro Crescentini. Ex presidente di Confindustria, scomparso a 89 anni. I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria di Loreto a Pesaro. Chiudiamo con la pagina di Fano, del messaggero, dove in evidenza c'è ovviamente il carnevale di Fano, presentato ieri ad Ancona e che Fano TV ha trasmesso in diretta e che vi riproporrà nella versione quasi integrale nel corso della giornata dopo il telegiornale, le repliche del telegiornale. Renzi sale sul carro ma del carnevale. Nelle sfilate spazio alla satira e il premier sarà protagonista. Anche la banda folcloristica fanese Musica Arabita avrà quest'anno un vero e proprio carro rigorico con tanto di getto insieme all'omaggio di un'altra tipicità fanese come il brodetto e ad un carro dedicato all'allegria. Come dicevamo si è tenuta in regione la presentazione dei corsi mascherati che si terranno l'1, l'8 e il 15 di febbraio. All'Atletica Fano la pista Marconi. La società si aggiudica la gestione del circuito ciclistico per i prossimi tre anni. E con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con occhio alla notizia. Arrivederci. Grazie per averci seguito.